Ci troviamo con l'assessore Gaetano Armao, l'assessore all'economia della regione siciliana, per parlare di federalismo. Assessore, il federalismo così com'è danneggia il sud? Diciamo che il federalismo come ce l'ha consegnato il governo Berlusconi era un federalismo pericolosissimo per la Sicilia poiché tagliava sostanzialmente tutti i margini di autonomia della regione, eliminava implicitamente le prerogative che lo statuto assegna alla Sicilia e le trasformava in una propagine di un'Italia che vuol dividere i cittadini in quelli di serie A e quelli di serie B. La lotta che ha posto in essere il governo regionale, devo dire, riconosce in questo senso la grande attenzione dell'Assemblea che all'unanimità, nonostante gli schieramenti politici sembrassero orientati su quelli nazionali quindi che avrebbero dovuto portare a una divisione tra centrodestra e centrosinistra per approvare questo ordine del giorno invece l'ordine del giorno è stato approvato all'unanimità contro il federalismo che ci proponeva il governo nazionale. Siamo riusciti prima a convincere la regione del Stato Speciale a costituire un campo comune di rivendicazione poi anche tutte le regioni italiane e poi finalmente dopo un confronto che è durato mesi anche il governo nazionale che ha dovuto riconoscere alla regione del Stato Speciale la loro autonomia. Questo vuol dire partire per il federalismo fiscale non dalla legge attuativa del federalismo fiscale che è una legge che comunque spinge e comprime il mezzogiorno ma dal nostro Stato di autonomia che ha dei punti di forza notevoli e che consente di rivendicare a livello nazionale quel che i siciliani hanno diritto cioè che tutte le ricchezze che producono gettito fiscale in Sicilia vengono imputate al territorio e quindi che questo gettito affluisca le casse della Sicilia e dei siciliani. Ma quali sono i maggiori problemi che può avere la Sicilia dal federalismo fiscale? Vedete il federalismo così come lo si vuole impostare è un federalismo che non tiene conto del divario che c'è tra nord e sud. Il federalismo di per sé è un sistema di riassegnazione delle risorse che non tiene conto se due aree sono vicine finanziariamente, economicamente o lontane. Noi stiamo applicando il federalismo nell'area d'Europa con la maggiore divericazione economico-sociale. Non c'è altro paese se non la Germania subito dopo l'unificazione che ha una diversificazione economico-sociale così polarizzata come quella italiana che appunto trova poi nella Sicilia nel mezzogiorno i punti di maggiore difficoltà economico-sociale. Ebbene, realizzare il federalismo in realtà così variegata, così polarizzata economicamente impone meccanismi di riequilibrio, cosiddetti meccanismi perequativi che in qualche modo consentano di non trasformare il federalismo in uno strumento che distorce la realtà del paese, che allontana ancora di più, che divarica ancora di più il nord e il sud del paese. Le perequazioni sono di due tipi. La perequazione fiscale, che vuol dire che nelle aree più forti una parte del gettito ritorna al centro e poi con funzioni perequative nelle aree più deboli, e la perequazione infrastrutturale. Che vuol dire? Vuol dire che le aree che hanno un ritardo infrastrutturale, pensiamo ai aeroporti, porti, strade, servizi, acquedotti e quant'altro, un ritardo infrastrutturale più forte, debbano essere messe in grado, se vogliono competere veramente, di recuperare questo gap, questo divario, attraverso una perequazione infrastrutturale. Ora, il federalismo che ci propongono, da un lato ancora non ha i numeri certi, anzi, quei pochi numeri che ci sono danno una penalizzazione del mezzogiorno inaccettabile. Ed è strano che molti politici del sud invitano i cittadini a diffidare tutti quei politici del sud che fanno finta di niente, fanno finta di niente perché hanno qualcuno a cui devono molto e poco debbono ai siciliani. Questo non è accettabile perché, prima di tutto, bisogna rispondere ai cittadini che subiranno questo federalismo. E allora ogni cittadino deve chiedere ai politici nazionali quanto sta facendo per difendere il proprio territorio, quanto sta facendo per difendere la Sicilia. Oggi non si può non essere in contrasto con un federalismo della Lega, un federalismo che vuole lasciare il mezzogiorno sempre più lontano facendo sì che quel divario infrastrutturale che è rimasto incolmato per 150 anni diventi incolmabile e quindi non possa più essere superato perché quella perequazione infrastrutturale che è necessaria per superare il divario non viene assolutamente messa in campo. Anzi, siamo al paradosso. Il piano per il Sud, che dovrebbe mettere in campo risorse per superare questo divario, non solo le risorse che diminuisce, ma in più il Governo nazionale scarica sulle risorse prima allocate nel mezzogiorno per lo sviluppo, poi i cosiddetti FAS, questa cronima un po' strano, che individua quelle risorse che servono allo sviluppo del mezzogiorno e della Sicilia, lo Stato scarica alcune politiche nazionali sul FAS. Pensiamo alla informatizzazione delle prefetture o pensiamo alla informatizzazione dei tribunali civili. È paradossale che lo Stato non realizzi queste cose con le risorse proprie dello Stato e non con le risorse dello sviluppo delle regioni. Questo paradosso arriva a livelli ancora più eclatanti quando poi pensiamo che in Sicilia sono confiscati alla mafia titoli e risorse finanziarie assai ingenti e queste risorse, che sono il pizzo e il costo del gioco mafioso pagato dai siciliani, queste risorse confluiscono nel Fondo per la Giustizia che remunera, con grande rispetto ovviamente, ma remunera i cancellieri del Tribunale di Monza o i cancellieri del Tribunale di Bolzano. Questo non può accadere perché queste risorse, non dico che devono confluire nelle casse di comuni e province siciliane, ma dovrebbero essere destinate ai magistrati, al funzionamento della giustizia, a remunerare lo straordinario dei poliziotti, dei carabinieri che alcuna volta non possono neanche pagarsi la benzina per le scorte o per le macchine. Questo è un paradosso che non possiamo accettare. Quali sono le correzioni necessarie al federalismo? Le correzioni necessarie al federalismo partono da una considerazione dei livelli differenziati di servizi che ci sono nel nostro Paese per applicare un federalismo che è una soluzione corretta. Non dimentichiamo che la Sicilia ha introdotto per la prima volta nel dibattito istituzionale di questo Paese il federalismo con lo statuto. Lo statuto è l'emblema del federalismo, lo statuto siciliano. E allora, se così è, dobbiamo far sì che questo statuto abbia attuazione. Fino a là è stato lo Stato a negarci l'attuazione di questo statuto. Cosa vuol dire? Vuol dire che, per esempio, tutte le imprese che operano in Sicilia, pensate all'Enel, pensate alle ferrovie dello Stato, ma alle banche, ebbene, sapete che la vostra ritenuta alla fonte viene pagata presso la tesoreria della sede della società. Quindi un dipendente siciliano che lavora in Sicilia, che non si muove dalla Sicilia, che pensa che le risorse che produce attraverso il gettito finiscano alle casse della regione, e quindi ai servizi a lui, ai suoi concittadini, ai suoi figli, invece finiscono nel calderone di un'altra regione. Allora, quel che diciamo è, data attuazione all'articolo 37, che prevede che i rami d'azienda, delle grandi aziende nazionali e internazionali che producono in Sicilia, restino qui come gettito, sia dei dipendenti che del ramo d'azienda stesso. Per non parlare delle accise, noi raffiniamo il 41% del prodotto petrolifero del nostro paese, con un costo ambientale enorme, pensate alla Baia d'Augusta o altre, o a Gela, o zone che hanno subito un carico enorme ambientale, ma anche dei propri cittadini, per dare questo servizio all'intero paese. Ebbene, le accise, che sono quel prelievo fiscale che viene applicato alla raffinazione e all'emissione in mercato, sono detenute allo Stato. Abbiamo fatto i conti che, se ci riconoscessero, come è dovuto per noi, se ci riconoscessero le accise sul prodotto raffinato, la Sicilia disporrebbe di 9 miliardi di euro in più. 9 miliardi di euro equivalgono all'intero peso del servizio sanitario regionale, il che consentirebbe di abbattere l'IRAP, consentirebbe di abbattere l'addizionale IRPEF, consentirebbe di trasformare la Sicilia in un'area a vantaggio fiscale vero e non solo declamato, come molti esponenti della classe politica nazionale fanno in questo momento, con comportamenti che sono completamente diversi. Grazie, Assessore. Assessore.